giusi giusi ma che cazzo ma che cazzo succede giusi giusi ma stai vedendo la gazzetta cosa scrive giusi ma come cazzo ma questo qui ha 400 miliardi di debiti con i tassi al 25 per cento e questi parlano di stadio ma che cazzo capisco che devi fare la notizia di devi 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 battere ferro qua ma devi ma qui siamo proprio al giusi cioè ma qui siamo fuori di te no qui no guarda qui c'è qualcosa che non va c'è ormai è un giornalismo proprio cioè proprio mamma o lo è sempre stato e non me ne sono accorto come cazzo fai a parlare di stadio nuovo se questo qui il cinese non lo sappiamo dov'è il cinese noi ma non lo sappiamo ma parlare di stadio c'è stella ma qui giusi dove sei giusi di qualcosa giusi ecco giusi ma che cazzo è mattacchioni mattacchioni no Grazie a tutti.